guarda la mia faccia anche ma qui si vede allora ascoltami a me squat subito toast to bar scendi dai toast to bar carichi fai 15 squat carichi e poi fai 15 squat dai fuori del minuto fai 15 squat ok 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 Quanto è che si usa? 3 3 Ecco calma! E qui se le prega Dimi quando ti metti la tua parte Con la presa di tenerla Quanto maticolo a Isa? 4 4 4 io provo a tenere 4 minuti 4 minuti 1 e 4 minuti d'altro 10 minuti 5 minuti 6 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 minuti 7 minuti 7 minuti